Secondo appuntamento con la Belluno Feltre Run e la simulazione della gara che il 28 di febbraio animerà Belluno e Feltre attraverso i runner che parteciperanno a questa straordinaria competizione. Ricordandovi di partecipare sia come pubblico sia come runner, Paolo Dal Magro percorre per voi il secondo tratto di questa straordinaria gara. Allungarmi, prendere quel numero, prepararmi a partire, i piedi degli altri, il sudore, il silenzio in questi 31 km, il mio fiato, la gente che applaude, la radio che mi segue, nessun'automobile che passa, un sorso di acqua, la discella, la salita, le mie montagne, la mia provincia, la mia corsa, il mio traguardo, la mia vittoria, sono io. Belluno Feltre Run, iscrizioni entro il 25 febbraio, info 0438 41 32 55 oppure www.bellunofeltrerun.it Belluno Feltre Run, domenica 28 febbraio, in diretta su Radio Belluno. Un evento in collaborazione con Passport, articoli sportivi, in via nazionale, a Busche. Benvenuti alla seconda clip di simulazione della Belluno Feltre Run, la gara di 30 km che si svolgerà domenica 28 febbraio 2010 a partire da Piazza Martiri a Belluno alle ore 10, ma con chilometraggio effettivo che verrà conteggiato a partire da questa terza edizione dal Ponte della Vittoria di Belluno. Simuleremo con Paolo Dalmagro, responsabile di percorso, questi 30 km. Siamo all'interno del centro abitato di Limana per questa seconda tappa e tra poco ne daremo le caratteristiche. Aggiorniamo il chilometraggio e diamo alcune informazioni utili del percorso che interessa questo comune. Allora qui siamo al centro di Limana, qui siamo al sesto chilometro, abbiamo già superato il primo ristoro che è alla fine dell'abitato di Visome ed il percorso fino qui al centro di Limana è un percorso abbastanza ondulato, piacevole, scorrevole, a parte la piccola asperità che sale e che abbiamo visto nel primo videoclip della chiesetta di Buzzati. Poi da qui in avanti si proseguirà sempre con un percorso ondulato ma sempre scorrevole. In questa parte del tracciato come si comportano i top runner? I top runner in questa parte del tracciato sicuramente sono ancora in attesa, saranno ancora tutti assieme e poi aspetteranno tempi migliori per sferrare il loro attacco e chi ne ha di più poi vedremo in seguito. La Belluno Feltrerun interessa anche il comune di Tricchiana. Sì, qui siamo in centro a Tricchiana, è uno dei posti anche più affollati come Tifo dove il Tifo è più acceso diciamo. Siamo tra il decimo e undicesimo chilometro quindi siamo a un terzo ormai della gara. I top runner probabilmente saranno ancora in attesa, saranno ancora assieme, normalmente succede questo. E una particolarità che volevo dire, vedete tante macchine che sfrecciano qui intanto che noi chiacchieriamo ma quel giorno lì il traffico sarà completamente chiuso e i podisti saranno in assoluta tranquillità e sicurezza. Qual è la prossima tappa Paolo? La prossima tappa faremo Mel, sarà il passaggio attorno al quindicesimo chilometro e lì il percorso comincia anche un po' a scendere e sarà anche un po' più facile. Siamo nel comune del gruppo sportivo La Piave 2000 ovvero nel comune di Mel che interessa parte appunto del tracciato della Belluno Feltrer. Qui che caratteristiche troviamo? Ma qui dopo questi lunghissimi rettilini, forse anche un po' noiosi da correre però in leggera anche discesa insomma facilitano un po' la corsa. Siamo attorno a metà gara, abbiamo superato il terzo ristoro e già essere a metà gara penso che sia un buon sollievo e diciamo almeno morale per chi corre. Non saliamo ovviamente a Mel ma rimaniamo sulla provinciale, passiamo a lato a Mel e seguiamo il percorso diciamo delle precedenti edizioni. Si conclude anche questa clip dedicata alla Belluno Feltreran. Vi ricordo che stiamo simulando la gara di 30 chilometri che si svolgerà domenica 28 febbraio a partire dalle ore 10 in Piazza dei Martiri a Belluno. Stiamo raggiungendo il prossimo comune, la prossima tappa interessata dalla Belluno Feltreran e lì parleremo nella prossima clip anche del Nordic Walking.